Ciao a tutti, questo è un piccolo omaggio a tutti gli amici e gli amanti come noi di Don Matteo in attesa della nona serie che aspettiamo con grande ansia che purtroppo sta posticipata a febbraio. Ciao a tutti, da Patrick e Simone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.